tagliamo il torsolo alla scarola e poi andiamo a lavare le foglie dopo averla lavata la tagliamo mettiamo l'acqua in una pentola e la portiamo a ebollizione salata al bollore saliamo l'acqua e lessiamo massimo 5 minuti la scarola la scarola è quasi cotta mettiamo nel frattempo due giri di olio in una padella a scaldare con due spicchi di aglio a scaldare con due spicchi di aglio dopo circa due minuti che abbiamo cotto la scarola uniamo metà dei ceci mentre l'altra metà dei ceci la andremo a frullare aggiungiamo un po' di acqua di cottura della scarola frulliamo dopo altri 5 minuti circa di cottura della scarola uniamo la crema di ceci a questo punto uniamo un po' di acqua di cottura della scarola è ovvero un po' di cottura della scarola uniamo con rack Alla fine mettiamo un filo di olio e se piace del pepe. Grazie per la visione!